lo vuoi fare un bel colpaccio l'acqua auto in via masaccio benvenuti in italmotor benvenuti in via masaccio 26 a torino dove troverete vetture nuove chilometri zero vetture aziendali vetture d'occasione in più la possibilità di finanziare anche l'intera cifra piccolissime le rate mensili comprensive sempre se vorrete di assicurazione incendio furto e atti vandalici andiamo a scoprire insieme opel crossland x 1.282 cavalli con climatizzatore vettura aziendale in garanzia ufficiale della casa madre che porterete via pensate da soli 189 euro al mese fiat 500 l 1.300 multijet 95 cavalli 1 euro 6 qui a little motor pensate la porterete via soli 12.900 euro o se preferite piccolissime la rata mensile comprensiva di assicurazione a partire da soli 149 euro al mese e continua la straordinaria offerta su fiat panda parliamo di panda nuove a chilometri zero con climatizzatore e radio usb le porterete via con uno sconto pensate che supera i 4.500 euro a soli 7.490 piccolissime le rate mensili comprensive di assicurazione incendio furto e atti vandalici e ancora quattro gomme termiche tre anni di garanzia aggiuntiva due tagliandi e voltura il tutto in una piccolissima rata mensile solamente 169 euro al mese parliamo di fiat 500 un 1.000 hybrid allestimento star una vettura realmente full optional nuova a chilometri zero avete capito bene solamente 169 euro al mese Volkswagen Polo un 1.000 comfort line 5 porte con soli pensate 12.000 chilometri la porterete via soli 11.800 euro Alfa Romeo Stelvio un 2.2 Multijet 210 cavalli il più potente allestimento veloce un Q4 quindi quattro ruote motrici ben 18.000 euro di sconto sarà vostro a 46.800 euro Audi Q3 Sportback un TFSI un 35 da 150 cavalli S-Line S-Tronic quindi anche con cambio automatico cerchi in lega da 19 pollici il risparmio supera i 16.000 euro dal listino e sarà vostra a 42.800 euro e continua la straordinaria offerta su fiat tipo station wagon parliamo di tipo station wagon 1.400 turbo 120 cavalli tutte con uno sconto pensate che supera il 50% del listino le porterete via soli 10.850 euro Fiat 500X 1000 turbo 120 cavalli allestimento Sport un mezzo full 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 optional che sarà vostro con uno sconto pensate che supera gli 8.000 euro a partire da soli 269 euro al mese Alfa Romeo Giulietta 1.400 turbo 120 cavalli nuove a chilometri zero diversi colori disponibili a partire da soli 16.900 euro Jeep Compass 1.600 multijet 120 cavalli l'allestimento più bello l'allestimento limited saranno vostri a soli 21.900 euro il risparmio dal listino supera i 12.000 euro avete capito bene il prezzo 21.900 euro Solamente 16.900 euro stiamo parlando di Jeep Renegade 1120 cavalli allestimento Longitude nuovi a chilometri zero un risparmio dal listino che supera gli 8.000 euro Solamente 16.900 euro anticipo zero e piccolissime le rate mensili se vorrete anche comprensive di assicurazione incendio furto e atti vandalici Audi A6 un 2000 hybrid TFSI un'autovettura che ha percorso pochissimi chilometri ma soprattutto il cui listino supera gli 80.000 euro qui a Little Motor sarà vostra a soli 21.900 euro Fiat Panda 4x4 un Twin Air nuova a chilometri zero sarà vostra a soli 199 euro al mese Fiat 500 1.269 cavalli allestimento Lounge con tetto in vetro vettura aziendale pochissimi chilometri percorsi 10.500 euro Ultimissima Suzuki Vitara 1.400 hybrid 130 cavalli all grip quindi un 4 ruote motrici con un risparmio di 8.000 euro dal listino sarà vostra a soli 21.900 euro E non mancano le 500 Abarth 1.400 turbo 145 cavalli anche in questo caso parliamo di vetture nuove a chilometri zero a partire da soli 16.900 euro Dacia Sandero una Stepway con impianto GPL della casa solamente 40.000 chilometri percorsi sarà vostra pensate a soli 10.900 euro E in chiusura vorrei ricordarvi ancora una volta la straordinaria offerta su Fiat Panda parliamo di Panda a chilometri zero tutte climatizzate che porterete via con un risparmio di oltre 4.500 euro le porterete via a soli 7.490 euro anticipo zero e piccolissime rate mensili comprensive di assicurazioni, incendio, furto e atti vandalici per 5 anni di 4 gomme termiche di 3 anni di garanzia aggiuntiva 2 tagliandi e voltura il tutto in una piccolissima rata mensile tutto questo e molto altro dove in via Masaccio 26 a Torino vi aspettiamo da Italmotor da lunedì al sabato ciao non vuoi fare un bel colpaccio l'acqua auto in via Masaccio vieni da Italmotor in via Masaccio 26 a Torino